Buonasera, buonasera, 48 minuti dopo la mezzanotte, l'ultima edizione del nostro telegiornale. Partiamo subito con le notizie sul coronavirus. In Cina l'epidemia ha già superato quella che fu la diffusione della SARS nel 2003. Intanto torneranno domani i primi italiani da Wuhan. L'unità di crisi della Farnesina sta organizzando un volo che raggiungerà l'aeroporto di Wuhan con a bordo personale medico specializzato per garantire un trasporto sicuro. Il coronavirus è più contagioso della SARS. Oltre 6.000 i casi accertati in meno di due mesi. La SARS invece in nove mesi aveva colpito 5.300 persone. Le vittime sono già oltre i 130. Nelle ultime 24 ore tuttavia si registrano meno ammalati del giorno precedente ma è presto per poter parlare di un primo vero rallentamento visto che ormai il virus è presente praticamente in tutta la Cina. Domani l'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe proclamare l'emergenza internazionale. Wuhan, la città epicentro dell'epidemia, è in quarantena stretta ed è sempre più spettrale. L'esercito pattuglia le strade e dove non arrivano i militari sono i cittadini a fare le ronde. Uffici, scuole, posti di lavoro rimangono chiusi. La Toyota ha interrotto la produzione nel paese fino al 9 febbraio. Starbucks e Ikea hanno serrato la metà dei propri punti vendita. British Airways, Lufthansa, American Airlines, Delta Air France hanno sospeso tutti i voli per la Cina. In tutto il mondo vengono rafforzate le misure di prevenzione e controllo mentre molti paesi si organizzano per riportare impatri con nazionali che sono bloccati a Wuhan. Già rientrati e messi in isolamento 200 statunitensi, nessuno mostra i sintomi della mattia. La Farnesina ha un aereo pronto a partire per 60 con nazionali, si attendono solo le ultime autorizzazioni cinesi. In Italia verranno messi sotto osservazione e probabilmente in quarantena. E c'è un aggiornamento sui numeri di questa epidemia per quanto riguarda la Cina. I morti sono saliti a 169 e sono più di mille i nuovi casi, ma sembra che comunque ci sia un rallentamento della diffusione del contagio. Saremo a vedere nelle prossime ore. Passiamo alla politica perché il Premier Conte ha convocato per domani il primo vertice di maggioranza dopo le regionali. È alla ricerca di una non facile mediazione tra gli alleati sui temi più scottanti del momento, la prescrizione, la possibile revoca delle concessioni autostradali, la trattativa sull'ex Silva e i decreti della sicurezza. Primo vertice post voto domani a Palazzo Chigi, occasione per la maggioranza. Presenti capi delegazione sarà la prima volta di buona fede per i 5 Stelle dopo l'addio di Di Maio di un pit stop dopo elezioni che sembrano aver modificato gli equilibri interni. Necessario ridare sprint all'esecutivo con un PD desideroso di mettere qualche punto su giustizia e autostrade e i 5 Stelle alla ricerca di bandierine identitarie per ridar fiato al movimento dopo il risultato deludente. Con Italia Viva in pressing per un'agenda riformista, ma se i toni dei renziani fino alla scorsa settimana erano da pura battaglia, oggi portano come biglietto da visita il mutato atteggiamento sulla prescrizione. Dopo aver minacciato un incidente in aula votando con le posizioni in lodo dell'Azzurro Costa, ieri hanno scelto di astenersi quando gli alleati hanno rispedito il testo in commissione, aprendo ad una trattativa interna la maggioranza, seppur con una data di scadenza. Dieci giorni di tempo, senza novità, torneranno all'offensiva con un emendamento al mille proroghe che blocca lo stop alla prescrizione inserito nella riforma buona fede. Questione apertissima anche quella delle concessioni autostradali con i 5 Stelle in difficoltà che non intendono mollare sulla linea dura, ma devono fare i conti con la cautela del PD e il no dei renziani, a cui agitate anche nell'opposizione dopo la sconfitta in Emilia con gli alleati di Salvini, Meloni in testa, decisi a ricalibrare gli equilibri interni a partire dalle candidature per le prossime regionali. Sul leader leghista incombe poi la vicenda a Gregoretti con l'autorizzazione a procedere, che è già il via libera della commissione, che il 12 febbraio arriverà nell'aula del Senato. Nel giorno in cui l'Europarlamento ha votato a larga maggioranza l'addio alla Gran Bretagna, Liliana Segre, proprio davanti agli europarlamentari europei, ha raccontato gli orrori di Auschwitz, 20 minuti di discorso e la denuncia ancora oggi ha detto c'è qualcuno che nega l'olocausto. Storica e commovente la visita al Parlamento europeo di Liliana Segre. Le sue parole, la sua tenacia, la forza mentale, a volte messe alla prova per sua stessa ammissione, resteranno impresse nella memoria. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, la ringrazia ad essersi salvata dai Lager per poter condividere, ove possibile, la sua storia, per aver potuto tutti noi conoscere Liliana Segre. Quel giorno, il 27 gennaio del 1945, quando quattro soldati russi entrarono per la prima volta ad Auschwitz, lei era già lontana, era tra chi sopravvisse alla cosiddetta marcia della morte, di cui si parla sempre troppo poco, dice la Segre. L'armata rossa è entrata, ed è molto bella la descrizione che fa Primo Levi nella tregua, di questi quattro soldati russi che aprono e si trovano davanti, senza liberare niente, perché i nazisti erano già scappati da tanti giorni, si trovano di fronte a questo spettacolo incredibile. Al momento ai loro occhi, poi più tardi, molto più tardi, diventò uno spettacolo incredibile per chi lo volle guardare. Qualcuno non lo vuole guardare neanche adesso, dice che non è vero. Spiega la fatica ad essere testimone, ma assicura lo resterà sino alla morte, perché la storia non si cancella, antisemitismo e razzismo, dice la senatrice a vita, ci sono sempre stati, così come c'è ancora chi si approfitta dell'antisemitismo, così come c'è sempre un momento politico adatto a farlo riemergere. Parliamo della Libia, dove la tregua è davvero messa a dura prova. Secondo l'emittente libica, il salvataggio di alcuni naufraghi da parte di una nave turca avrebbe coperto un'operazione militare con due navi da guerra turche che al porto di Tripoli avrebbero scaricato personale militare, attrezzature e carri armati inviati dalla Turchia alle forze del governo di accordo nazionale libico di Fayez al-Sarraj. Il presidente francese Macron ha accusato direttamente Erdogan di non mantenere la parola data sulla Libia. Wilpool, il colosso americano delle lavatrici, conferma l'abbandono dello stabilimento di Napoli. In un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, l'amministratore delegato del gruppo ha confermato l'intenzione di voler lasciare il sito impegnandosi a mantenere la produzione fino al 31 ottobre. In un primo momento si era parlato di uno stop dal 31 marzo, definito dal ministro Patuanelli inaccettabile. Momenti di tensione fuori dal Ministero, con la protesta degli operai. Una delegazione venuta da Napoli urla lanci di acqua con l'intervento della polizia. Secondo l'azienda, lo stabilimento partenopeo perde 20 milioni l'anno. I sindacati sul piede di guerra hanno proclamato da domani scioperi in tutti gli stabilimenti. La salma di Kobe Bryant è stata identificata la notte scorsa dal reparto investigazioni dell'aviazione statunitense. L'operazione è stata resa possibile grazie alle impronte digitali dell'ex campione della NBA. Identificati anche i corpi del pilota Ara Zobayan e dell'allenatore di baseball John Altobelli. Gli investigatori hanno confermato che l'elicottero caduto non era equipaggiato con un sistema elettronico in grado di mantenere una distanza di sicurezza dal suolo. In vista dei funerali che si terranno nelle prossime settimane si pensa al Coliseum, lo stadio di Los Angeles che ospitò i giochi olimpici. Una notizia di calcio per quanto riguarda la Coppa Italia. L'Inter ha battuto 2-1 alla Fiorentina. Per i nereazzurri c'è ora la semifinale contro il Napoli. Partita sbloccata da Candreva, la 44-3 dopo un'azione condotta insieme a Lautaro Martinez. Pareggio di testa di Cazares al 59esimo e quindi Barella, al 67esimo, ha messo la sua firma sul successo dell'Inter che ha fatto debutare il neocquisto Eriksen. Era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento.